benvenuti ragazzi a questo nuovo video abbiamo fatto un video sperimentale ovvero ci siamo ingegnati in un giorno di temporale visto che fuori pioveva abbiamo deciso di fare delle scenette riguarda il comportamento di maschi e femmine molto ignoranti molto ignoranti bravo caprilino molto ignoranti se ci volete aiutare su questo percorso qua vi raccomando di lasciare like commentare avere suggerimenti magari se volete vedere altre scenette di questo tipo e iscriversi palacare critica pc sesta prove dici guardate è l'amore a pò io ho benissimo a sarai donna altro coglione ora io sono d'uggillo l'eccellente o tassaro fatelo fatelo 4 che sono rossi con l'ahora per casa 24 3 palla pollo www oe l'ora di ago quali dalla speriamo di farlo di direttore divertiti da matti speriamo che cosa succeda anche a voi i vicini pura vicini pure pura alcuni ci sono anche cercati di picchiare e se raggiungiamo quanti like faremo il sequel 25 25 25 c'era 25 se non ci arriviamo ve lo riproponiamo lo stesso perché noi abbiamo questo 25 25 5 like e 5 pollice di giù 5 per 5 25 4 video perfetto ragazzi buona visione buona visione ciao ciao ti vedo bene ti vedo bene a a a a a a a a kato le o grazie ma donna Sì, sì, sì. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.